Cari amici di Pronto e Servito, bentornati! Io sono Angelo e oggi prepareremo dei tipici biscotti che si preparano per la festa di San Martino, che ricade appunto l'11 novembre. Di questa ricetta esistono due varianti, la variante morbida e quella biscotto, che è quella che prepareremo noi. Per realizzare la variante morbida basterà cuocere i biscotti una sola volta. Ma adesso allacciate i grembiuli che iniziamo! Ma prima di iniziare come sempre vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farla adesso, basta schiacciare il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. Adesso iniziamo! In una planetaria iniziamo ad inserire 500 g di farina 00, insieme a 125 g di zucchero. Poi in 220 g di acqua tiepida andiamo a sciogliere 12 g di lievito di birra fresco. E aggiungiamo un pizzico di chiodi di garofano in polvere. Avviamo la planetaria e aggiungiamo l'acqua a poco a poco. Quando l'impasto avrà assorbito tutta l'acqua possiamo aggiungere lo strutto a poco a poco. Quando anche lo strutto si sarà incorporato all'impasto possiamo aggiungere il sale e i semi di finocchio. E portiamo a termine l'impasto. Adesso l'impasto è pronto e lo trasferiamo all'interno di una terrina e lo lasciamo riposare fino al suo raddoppio. Ci vorranno circa 30 minuti. Trascorso il tempo di lievitazione riprendiamo l'impasto e lo dividiamo in tanti pezzetti, da 50 g circa ciascuno, con il quale formiamo dei filoni di pasta che poi attocciglieremo su se stessi. In questo modo. Riponiamoli poi in una teglia e lasciamoli lievitare ancora una volta per altri 30 minuti circa. Una volta lievitati li spennelliamo con un po' di latte e li inforniamo con un forno statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Poi li sforniamo e li lasciamo intiepidire un po'. E a questo punto li inseriamo nuovamente nel forno ma questa volta a 150 gradi per circa 30 minuti. I tempi di cottura potranno variare in base ai forni e in base anche alla dimensione che darete ai vostri biscotti. Quindi guardateli spesso, si devono odorare e non si devono oscurire troppo. E adesso i biscotti di San Martino sono pronti per essere gustati. Pronto? È servito! Grazie a tutti! Grazie a tutti.